Avete vinto il primo campionato, è ora? Adesso ci prepariamo ad affrontare la seconda categoria, se Bassano ci accompagna di nuovo, se continua a giocare, buono per noi. E qua dobbiamo ringraziare soltanto chi si è allenato, si è sempre stato zitto, l'hanno dimostrato oggi in campo, Marco, Alessandro, chi ha te Bassano? Chi ha te che si è allenato? Tutti quanti, tutti. Un complimento a tutti, soprattutto al Presidente. A tutti. A tutti, a tutti quanti. A tutti. Basta così. Va bene.